Ben trovati con il nostro focus, i grafici della settimana, proviamo a misurare la temperatura dei mercati raccontando e analizzando qualche indice, qualche cambio valutario e alcuni titoli di piazza affari e cerchiamo un po' di capire la direzione dei mercati in quella che di fatto è la prima al termine di quella che è la prima settimana piena di ottobre. Indici dicevamo, in particolare un indice che è quello giapponese che ci sta particolarmente incuriosendo e impressionando, perché? Perché guardate la forza con cui l'indice Nikkei è uscito dal canale ribassista e quindi sostanzialmente eravamo all'insegna del colore rosso e di come eventualmente, anzi sicuramente, ha ritracciato, ha corretto quella forza dimostrata da parte del Nikkei riposizionandosi all'interno del canale ribassista. In realtà la situazione è abbastanza chiara, siamo davanti a una super resistenza testata a febbraio, 30.800 punti e poi anche a settembre, tra settembre e ottobre, è il massimo degli ultimi 30 anni. Bisogna tornare indietro al 1990 per trovare questi valori a 30.800. Dal massimo di febbraio sei mesi di canale ribassista, come vedete, fino a tra agosto e settembre sostanzialmente, quindi fino al termine dell'estate. Da qui spinta molto violenta di nuovo fino al massimo dei 30.800. In questo periodo, sostanzialmente un mese, l'indice ha guadagnato il 15% e, all'interno di un ulteriore periodo che si aggira attorno al mese, forse qualcosa di meno, ha perso ulteriormente, nuovamente, quei 15% di forza. Adesso cosa sta succedendo? Un'altra cosa interessante. L'indice sta provando a riposizionarsi al di sopra del canale ribassista e, quindi, al di sopra della resistenza dinamica. Il prossimo grafico ce lo mostra ancora con più chiarezza. Perché? Eccolo qui. Queste verdi sono le ultime due sedute e, come vedete, sta provando a posizionarsi al di sopra della media mobile a 200 periodi che rappresenta al momento una sorta di primissima resistenza. Ed effettivamente c'è riuscita, nonostante due shooting star che, potenzialmente, sono dei pattern ribassisti perché si tratta di due spike, due ombre. Poi, vuol dire, in linea di massima, che il mercato sta cercando di aggredire i massimi di giornata, i massimi di seduta, poi subito rivenduti dal mercato. Cioè, nonostante, sta utilizzando adesso la media mobile a 200 come primo supporto. Quindi, da resistenza a supporto è un chiaro movimento rialzista. Questo è sempre un grafico daily, per quanto riguarda l'indice di Tokyo. E il prossimo cartello, il prossimo grafico, ci dice qualcosa ancora di nuovo. E cioè, questo è un grafico settimanale. Tutto sommato, siamo ancora all'insegna del colore verde che vedete anche in studio. Perché i minimi, da marzo 2020, hanno innescato il tren rialzista rotto al ribasso proprio dal canale tendente verso il basso e che è durato sei mesi. Tutto sommato, non è arrivato lontano quel supporto dinamico ai 30.800. È arrivato a 32.000. Non siamo così distanti. Ma soprattutto, se notate bene, quel canale ribassista che abbiamo evidenziato in giallo non è una correzione, non è un'ampia inversione, una totale inversione di tendenza. È un ritracciamento. È un ampio ritracciamento. Tant'è che il massimo, il doppio massimo a 30.800, arrotondiamo per eccesso 31.000, rappresenta il lato maggiore di un rettangolo il cui lato minore è rappresentato da un supporto in area tra i 26.000 e i 27.000 punti. Tra i 27.000 e i 31.000 siamo davanti a 4.000 punti di lateralità all'interno del quale l'indice Nikkei si muove nell'ambito di tutto il 2021. Questo dunque è un consolidamento se guardiamo nel lungo periodo. Non tanto una correzione, non tanto una inversione al ribasso. Andiamo avanti e analizziamo insieme il prossimo cartello, il prossimo grafico che si tratta del cambio euro, scusate, dollaro-sterlina, anzi sterlina-dollaro. Sembra un po' pasticciato ma in realtà è molto semplice. Si parte dal rialzo forte della sterlina avvenuto dopo il Covid fino a un doppio massimo, anche in questo caso come il Nikkei. Il doppio massimo rappresenta il punto più alto della sterlina a 1,42,4 all'incirca. Dal doppio massimo canale ribassista, proprio come l'indice Nikkei, fino a fermarsi al triplo minimo estivo tra luglio e settembre che possiamo identificare in una cifra tonda, un valore tondo 1,36. Quel valore di 1,36 è stato rotto al ribasso proprio qui, al inizio del mese di ottobre, in maniera importante fino a 1,34, anche in questo caso cifra tonda. Sappiamo cosa sta succedendo in questo contesto generale economico. Abbiamo la sterlina o meglio abbiamo la Gran Bretagna senza materie prime, i trasportatori che non ci sono, i ristoranti in crisi, i scaffali dei supermercati vuoti e anche la benzina che viene fornita ai distributori attraverso l'esercito. E poi c'è un dollaro molto, molto forte. Quindi che cosa succede? Succede che siamo arrivati a 1,34 anche appunto per la forza del dollaro. Tentativo di ripresa della sterlina, ma 1,36 rappresenta quel livello spartiacque al di sopra e al di sotto nel quale potremo assistere a movimenti interessanti. In queste ultime quattro sedute, come vedete, la sterlina sta aggredendo 1,36 e dà l'impressione di riuscire a rimanere al di sopra di questa soglia psicologica importante. Prossimo grafico, sempre su sterlina dollaro. Ampliamo la veduta, questo è un grafico weekly, settimanale. Notiamo come da marzo 2020 il trend sia arrivato esattamente al punto più alto del doppio massimo, quindi a 1,42, il secondo doppio massimo avvenuto appunto tra aprile e maggio. Dopodiché abbiamo assistito a questo canale ribassista, ma che come per l'indice Nikkei non è un'inversione, non è una totale inversione di rotte, quindi una correzione. È un ampio ritracciamento guardando il grafico su base weekly. Tant'è che anche in questo caso vediamo una sorta di rettangolo che si è andato a generare tra 1,40 e 1,34. Quell'1,34 forse più dell'1,36 rappresenta il supporto più importante, il supporto statico più importante al di sotto del quale potremmo assistere a movimenti verso il basso, anche perché, se notate bene, è il punto d'incontro tra il supporto dinamico del canale ribassista, la resistenza ha diventato supporto statico a 1,34 e la media mobile a 200 periodi. Quindi occhio, molta attenzione a 1,34 per la sterlina, così come anche al momento l'1,36 che è il livello che la valuta britannica sta cercando di aggredire e di acquistare per provare a riavvicinarsi a dare 1,38 e perché no anche a 1,40. Prossimo grafico e finalmente andiamo a Piazza Affari. Ci occupiamo di Anima Holding, recentemente ha anche pubblicato il proprio bilancio che è stato molto apprezzato dal mercato. Ecco perché è il verde il colore prevalente, soprattutto nell'ultima settimana, perché guardate qui, da queste sono le ultime 5 candele, in queste 5 candele abbiamo visto una forte spinta rialzista. Ha guadagnato attorno al 7% Anima Holding, in particolare le ultime due sedute, le vedete, le ultime due candele, si sono posizionate al di sopra della resistenza dinamica che abbiamo tracciato in giallo e che tendeva verso il basso. Quindi una spinta importante e vediamo il prossimo cartello di Anima Holding, così capiamo anche il contesto generale del titolo. Eccoci qua, siamo a 4,35 circa, ma non è la resistenza più importante che Anima Holding deve affrontare. È evidente che è 4,40 sopra 4,40 in questa posizione che la resistenza e il prezzo ha spinto verso il basso ogni tentativo di acquisto da parte del titolo Anima Holding, da parte degli investitori ovviamente. 4,40 sopra 4,40, questo è il livello più importante che Anima Holding effettivamente può provare ad aggredire nel momento in cui riesce a usare la resistenza dinamica come supporto e come molla, ulteriore molla per aggredire i 4,40. Un valore importante perché qui aveva fatto ancora una volta da resistenza e se cambiamo ancora grafico, rimanendo sempre su Anima Holding, notiamo come fondamentalmente il trend è ancora ampiamente rialzista. Lo vedete come al solito da marzo 2020, che è il mese cruciale della ripresa post-Covid, non è mai stato infranto al ribasso questo supporto dinamico, è stato testato a luglio e adesso viene testato in maniera importante proprio nel mese di settembre, ma anche nel mese di agosto. Ripeto, questo è un grafico weekly, la media mobile a 50 periodi sta più o meno corrisponde al supporto dinamico e vi dirò di più, c'è un triangolo che si sta chiudendo, quest'ultima candela va a rompere la resistenza dinamica e se guardiamo ancora più da vicino questo grafico nel prossimo cartello vediamo come si tratta di un engolfing bullish, quindi un chiaro pattern rialzista. Eccolo qui, questa candela, l'ultima, si divora le tre precedenti. È una candela verde e quindi è un chiaro segnale ulteriormente rialzista. Ecco perché può provare nuovamente ad aggredire i 4,40 e questo cartello ci permette anche di capire dove può arrivare Anima Holding. Ovviamente può arrivare ai 4,80 sfiorati attraverso questa spike rialzista del mese di giugno e più o meno avvicinato anche in area 4,7 in queste altre occasioni. È una resistenza anche questa molto importante perché è chiaro ogni volta che il mercato ha provato ad avvicinarsi a quei livelli è sempre stato venduto, Anima Holding è sempre stato respinto verso il basso. Altro titolo che osserviamo, sempre a Piazza Affari, andiamo a vedere un po' il comparto bancario, Intesa San Paolo. Analizziamo il titolo Intesa San Paolo, eccoci, e qui rimaniamo in ambito di un grafico settimanale perché ci aiuta a capire una cosa importante. Di nuovo ci troviamo davanti a un doppio massimo, a 2,50. Non solo, diciamo che siamo davanti a un pattern ribassista che può essere quello del doppio massimo, ma anche a un pattern rialzista. Se osservate bene, dalla prima freccia gialla alla seconda freccia gialla c'è una sorta di cap and handle, anche se un po' sporca, una tazza con manico che spesso può voler dire ulteriore spinta rialzista. In realtà, effettivamente, quel doppio massimo, Intesa San Paolo, l'ha già superata proprio nell'ultima settimana, 2,51. È ovvio che però serve capire con quanta energia Intesa è riuscito a superare quel doppio massimo. Questa energia la vediamo nel prossimo cartello. Ci avviciniamo e cerchiamo di vedere più da vicino cosa sta succedendo ultimamente. Come vedete, questo è un grafico daily, le ultime due candele sono positive. Hanno superato quel doppio massimo a 2,50, quindi questa resistenza statica, ma non con troppa convinzione. Guardate, si tratta di due doji, sostanzialmente, con spike sia verso l'alto sia verso il basso. Come a dire, non sappiamo bene dove andare a collocarci, non sappiamo se andare verso l'alto o verso il basso. Nel dubbio restiamo al centro, però comunque si è trattato di due sedute positive. Quindi sì, siamo al di sopra del doppio massimo, ma aspettiamo, aspettiamo qualche altra indicazione per capire se Intesa vuole salire ancora di più. E con il prossimo cartello cerchiamo di dare un'ulteriore fotografia del titolo. Un titolo in salute, all'insegna degli acquisti, quindi ancora è il verde a prevalere, questo supporto dinamico iniziato a novembre 2020, testato a febbraio 2021, e poi anche a luglio, e poi ancora tra settembre e ottobre. Siamo molto lontani da quel supporto dinamico, non c'è pericolo di inversione di tendenza. C'è questo doppio massimo su cui bisogna ragionare e capire se effettivamente si può andare oltre o meno. E come facciamo a sapere se riusciamo ad andare oltre o meno? Con l'ultimo grafico su base mensile, sempre per Intesa San Paolo. Eccolo qui, ci racconta una situazione un po' diversa, allargando il periodo temporale. Se partiamo dal 2015 è evidente che siamo davanti a una resistenza dinamica tendente verso il basso, quindi a lungo periodo è un titolo in ribasso, colore rosso. È importante però notare come questa resistenza dinamica sia stata testata nel 2018, vedete, al centro, e soprattutto proprio in questi ultimi mesi, in quest'ultimo periodo. Ed è un momento importante perché effettivamente se dovesse essere battuta sia questa doppia resistenza, sia questa resistenza dinamica di lungo periodo, ecco che allora sì, Intesa potrebbe essere pronta per aggredire innanzitutto i 2,75 che vediamo in questa spike rialzista a inizio 2020, ma soprattutto i 3 euro ad azione, cifra tonda anche in questo caso, per non sbagliare, testato soprattutto nel 2018 in questi 5 candele che rappresentano 5 mesi verso la fine del 2017. dunque nel medio e lungo periodo intesa può aggredire i 3 euro ad azione, proprio in virtù del fatto che queste ultime sedute, queste ultime candele, gli ultimi 4 mesi sono la dimostrazione di massimi e minimi crescenti e quindi ovviamente un movimento rialzista e un titolo in salute. Staremo a vedere nel corso del mese di ottobre che cosa accadrà, questa è la prima settimana piena di ottobre che ci ha permesso, questo ovviamente ce l'auguriamo, di dare un'ulteriore fotografia per lo stato di salute del mercato. Grazie per averci seguito, rimanete qui sulle fonti tv. Grazie per averci seguito, rimanete qui sulle fonti tv.